ciao ben trovate in questo nuovissimo video diamo insieme un benvenuto a claire questa ragazzina che viene dalla costa d'avorio insieme a me prepara i crackers ai semi ecco oggi abbiamo utilizzato dei fiocchi d'avena della farina integrale dei semi di girasole e questo mix melandri e contiene semi di papavero semi di lino semi di sesamo insomma un tripudio di benessere poi ho aggiunto dell'erba cipollina dell'origano ho aggiunto dico ma ha aggiunto claire con le sue mani bellissime lunga affusolate lo smalto ecco le mie invece sono pallide e senza smalto frulliamo il tutto ho aggiunto anche un po di sale e così è giunto il momento di unire anche gli ingredienti liquidi in questo caso io utilizzo l'olio extravergine d'oliva può andare bene anche un olio di girasole ma ve lo consiglio biologico spremuto a freddo e un po di acqua e frulliamo ulteriormente così lo facciamo per risparmiarci un po di lavoro ma si può fare anche a mano e eventualmente andiamo a trasferire il composto all'interno di una ciotola bella capiente di vetro e ci aiutiamo con un po di farina per rendere questo composto un po più lavorabile ecco non esageriamo con le quantità perché altrimenti i crackers potrebbero venire un po secchi quanto basta quanto basta per riuscire a lavorare l'impasto claire è già bravissima dovete sapere che mentre preparavamo questi crackers lei parlava in francese io parlavo come totò in noio volevo un savoir avrei voluto lasciarvi qualche pezzo poi alla fine ve l'ho risparmiato anche se sono sicura che vi avrei fatto sorridere molto e avrei preso anche molti like in più ma ma niente non l'ho fatto insomma ed ecco qua abbiamo trasferito il nostro impasto su una spianatoia spolverata con della farina e andiamo a stenderlo sottilmente vedrete un po le mie mani e un po quelle di claire quelle belle sono le sue ecco lo so può sembrare granito questo questo composto questa sfoglia ma vi assicuro che questi crackers sono deliziosi veramente accompagnati non so con delle salse eccetera piacciono i grandi e i piccoli noi abbiamo scelto queste due formine e vi assicuro che abbiamo fatto un vero e proprio casting lo scoiattolo e la lumaca e andiamo a intagliare i nostri crackers dopo che li abbiamo intagliati tutti quanti sagomati tutti e andiamo ad eliminare il l'impasto di risulta e lo andiamo nuovamente ad impastare per formare nuovi crackers noi adesso non vi facciamo vedere tutta questa fase e andiamo a trasferirli direttamente in una teglia io l'ho foderata con carta da forno ma se non la foderate con carta da forno va bene lo stesso in genere non si attaccano come vi avevo già anticipato quindi 180 gradi in modalità statico nel mio forno senza nessun tipo di performance ci vogliono 15 minuti circa ma siate vigili durante la cottura perché potrebbero essere sufficienti anche 10 minuti e eccoli qua i nostri crackers sono pronti buonissimi io e clara adesso ne andiamo a trasferire in un vassoio e seguirà sicuramente una merenda che neanche a dirlo mi piace mi fa bene e spero che siate stati bene in nostra compagnia spero che la ricetta vi sia piaciuta se vi è piaciuta fatemelo sapere potete farlo mettendo un like a questo video e iscrivendovi al canale e seguendomi sui social e il blog io ringrazio ancora claire per la preziosa collaborazione per avermi segnato qualche parola in più di francese e vi saluto alla prossima ricetta un bacione ciao 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 ciao